Ciao a tutti sono Giulietta Bandiera e sono qui per presentarvi una nuova iniziativa del gruppo Anima cioè una collana che già preesisteva si chiama Vite ma che adesso diventa una collana biografica e autobiografica per cui daremo a tutti con questa collana la possibilità di pubblicare la storia della propria vita oppure quella di una persona cara la cui memoria vogliono conservare perché la vita ogni vita è un valore un valore grande che non deve mai andare perduto avvalendoci perciò di una rete di collaboratori dell'ambito del giornalismo dell'editoria e degli audiovisivi realizzeremo non solo libri biografici autobiografici ma anche prodotti in audiovisivo quindi e dvd che raccontano appunto la vostra storia o quella delle persone a voi più cari ma oltre a darvi la possibilità di magari raccontare la storia di persone che non ci sono più potete anche usare questa opportunità per fare un regalo insolito magari per un matrimonio un anniversario di nozze un pensionamento e così via per tutte le informazioni ulteriori potete naturalmente consultare il sito del gruppo anima che è www.gruppoanima.it oppure scrivere alla nostra mail di redazione che è appunto redazione chiocciola anima edizioni.it aspettiamo le vostre richieste e custodiremo i vostri ricordi grazie a tutti